Ah, 99 secondi con Fabio Favorito di Payleven, Business Developer, giusto? Dico bene. Allora, che cos'è che ci fai vedere? Vi farò vedere una transazione di prova dall'account di Payleven. Ma scusa, Payleven che cos'è? Questo oggetto qua, vediamo. Payleven è un mobile post, si tratta di una soluzione per accettare i pagamenti attraverso il proprio smartphone o tablet. Quindi si può pagare con una carta di credito tramite il proprio smartphone. Facci vedere come avviene una transazione. Sì, certamente. Allora, il commerciante sul proprio tablet digita l'importo della transazione. Può inserire un'iscrizione. Ecco, una fotografia. E poi come faccio a pagare? Poi a pagare basta premere questo tasto. Ok. Arriva l'oggettino, facciamolo vedere bene, mi raccomando. Esatto, c'è una comunicazione Bluetooth tra il tablet e il dispositivo. Infilo dentro la mia carta di credito con chip, questo è importante. Esatto, a questo punto devo inserire il mio PIN. Ok, non facciamolo vedere perché sennò ragazze si mangia gratis per un mese. Ok, ce l'hai fatta. Transazione. Ah, è già approvata. La transazione è approvata. A questo punto posso inviare una ricevuta via e-mail. Ecco. È molto veloce per il commerciante. Quindi avete capito che praticamente con PayLearn chiunque può transare carte di credito, tra l'altro con una piacevole sorpresa. Quanto attivate di commissione? Il 2,75% più 19 centesimi a transazione. Ecco, che considerando che quando abiliti un posto non è mai meno del 3,5-4%, direi che oltre al vantaggio tecnologico c'è anche un vantaggio economico, niente male. Non solo. Si può acquistare online, vero? Sì, esatto. Si acquista online, ma il vantaggio economico è soprattutto sul fatto che non ci sono caroni mensili, né minimo di transato. Ah, perfetto. Quindi si paga solo nel momento in cui si utilizza. E ogni 15 giorni gli date il bonifico. Ogni settimana. Perfetto, ragazzi. A posto. 99 secondi. E grazie di aver partecipato a questo video senza timore di Asso Digitale. Ciao, ragazzi. Ciao.